Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ho detto dal titolo, andremo a parlare di consigli che nessuno parla di cose effettive sul campo per chi fa o chi vuole fare direzioni della fotografia all'interno di un sé. Premetto che queste cose, lo semplicemente per me, non le ho mai dette a nessuno. Sono appunti che ho preso da alcuni corsi che ho fatto privatamente, da alcuni video che sono a pagamento su YouTube e anche molte altre cose che ho imparato da registi molto molto famosi tramite l'Ipernet. Sono appunti che evidentemente cambiano veramente il modo di fare meglio. Il primo consiglio è inquadrare i soggetti in modo dritto, se i personaggi sono regolari e comunque sono buoni, e magari inquadrarli in un modo strano, tanto storto, distorto, con il Dutch Angle, perché non sapesse cos'è, però anche lo spiego. Praticamente è ruotare la telecamera, se si attaccava al letto, quindi fanno andare fuori bolla, se appunto vogliamo far capire che sono appunto misteriosi. Invece inquadrarli in modo normale, quindi dritto in bolla, se sono personaggi comunque normali, classici, buoni, sono che fanno parte della storia in modo positivo. Il secondo tip, secondo me il secondo consiglio, è che si può essere dominanti anche essendo sedutivo. Se guardiamo infatti in alcuni film americani, il personaggio cattivo è molte volte sento un buono in piedi. Quindi non è sempre detto che la persona dominante, comunque la persona più cattiva, più che potrebbe fare del male, diciamo, è sempre in piedi. Non è quasi mai detto. Il terzo consiglio è di utilizzare specchi e riflessi per creare un senso di essere osservati, comunque di non solitudine. Infatti se guardiamo questa cosa in molti film è presente infatti in un'incuartura magari da uno specchio, da un riflesso, o comunque magari da dietro del personaggio, per far capire che c'è qualcuno oltre del personaggio, fino a prendere questa cosa, se la fate bene, può andare davvero in modo in cui fate il film, o non fate il cortometrage, o fate il video. L'ultimo consiglio, questo forse è più fondamentale di tutti, se riferiamo a composizione simmetrica a millimetro e nemmo mettere un personaggio fuori dalla simmetria, andiamo a creare un senso di disorientamento, nel senso che qualcosa non va oltre il personaggio fuori il luogo. Questa cosa è utilizzata in molti cortometraggi, se ad esempio vediamo magari che il personaggio fa un brutto sogno o si risveglia, e magari vediamo che tutta la composizione dell'ingosura è simmetrica, e poi appunto il personaggio è messo fuori dalla simmetria. Questo per far capire appunto che c'è un senso di disorientamento. Per questo bene mi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, iscriviti al canale e attivate la campanellina, e soprattutto commentate se appunto volete vedere altri video come questo, su un tips consigli, perché appunto vuole aumentare la famiglia dei propri video, dei propri film, dei propri cortometaggi. Se siete interessati comunque, fatemi sapere se siete interessanti video del genere, ce ne faccio altri assolutamente, e mi commentate, e noi ci vediamo, adesso vi.